partiamo subito con il primo minuto a fondo più slancio fino al termine del minuto to all of this bit by bit cambio gamba e parte l'altro minuto pronte via non passiamo a squat più kick side con la power band sempre un minuto un minuto ora a terra mono kick prima una gamba e poi l'altra si parte un minuto 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 E cambio gamba, via. E cambio gamba, via. Passiamo al granchio con la power band, pronte, via. Passiamo al granchio con la power band, pronte, via. Passiamo al granchio con la power band, pronte, via. Passiamo bene il sangue, un minuto e poi riprendiamo tutto da capo per il secondo round. Passiamo al granchio con la power band. Passiamo al granchio con la power band, a fondo, più slancio, pronte, via. Passiamo a granchio con la power band. Passiamo a granchio con la power band. Passiamo a granchio con la power band. Cambio gamba, affondo più slancio Pronte? Via! Pronte? Via! Squat più kick side con la power band, via! Pronte? Via! Ora passiamo al mono kick, pronte? Via! 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 e cambio gamba pronte, via pronte, via Ora passiamo al kickback piegato, pronte, via! Ora passiamo al kickback piegato, pronte, via! E cambio gamba sempre kickback, pronte! Via! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione